o esempio da matteo barberi nuovo podcast oggi parliamo di coltivare la mente eccoci qua parliamo di coltivare la mente partiamo dal da quello che ha detto cicerone cerone dice coltivare la mente è necessario come il cibo lo è per il corpo questo perché parto da questo presupposto di cicerone perché onestamente quello che io rimarco nei confronti degli imprenditori modo particolare del commercio che in questo momento è particolarmente e mi dispiace molto per il mondo del commercio ristoranti bar però c'è da porre qualcosa anteporre qualcosa prima perché in effetti noi siamo in un mondo dove siamo entrati in un ciclo che ogni giorno corriamo dalla mattina alla sera e arriviamo stanchi e continuiamo a fare le medesime identiche cose il giorno dopo quando non siamo più in gradi di pianificare i nostri obiettivi di pianificare le nostre strategie e questo ci porta a trovarci poi di fronte al problema quando è troppo tardi per quello la lezione che ho imparato anch'io è proprio quello di rallentare cioè rallentare significa poter poi accelerare rallentare vuol dire capire quali sono i propri punti deboli personali andare a filare la propria motosega e poter capire che solo investendo su noi stessi e cambiare la modalità di approccio a quelle problematiche e a quelle attività può permettere il salto perché se continuo a fare le medesime cose tutti i giorni non posso pensare di migliorarle Einstein diceva sempre questo per quello che io se continuo a fare le stesse cose non posso cambiare risultati è ovvio è proprio così allora come posso fare? devo cambiare anche il mio atteggiamento il mio modo di vedere devo stimolarmi perché alcune volte il lavoro non è più stimolante per alcuni imprenditori del mondo del commercio è tutti i giorni tiro sulla serrandia e devo vendere per quello quell'entusiasmo che io ho all'inizio, magari in primi anni, non ce l'ho più per quello in realtà è coltivare e ognuno trova il suo modo per coltivare la propria mente leggendo libri, magari capendo che ci sono anche tematiche nuove e le tematiche sono dalla leadership al marketing, alla comunicazione, alla finanza a tutto quello che serve per un imprenditore per avere lo stimolo necessario, la tecnologia per poter continuare a reggere il cambiamento perché di fatto un imprenditore sa già che c'è un rischio altissimo di chiusura di fallimento ha imparato a navigare nella melma andare sott'acqua e poi ritornare su quello è il vero imprenditore questo è l'imprenditore che non si lamenta non si adagia sa che il mercato è difficilissimo accetta la sfida quando inizia il primo inizio diventa un piccolo Rocky Rocky 4 per far capire il segno come si può distruggere dalla montagna tecnologica del grande avversario russo a suo tempo questo è il nostro modo se noi non coltiviamo non studiamo e troviamo gli stimoli non ci prendiamo tempo perché pensiamo che dobbiamo essere una ruota continua no lì subentra quello che è la selezione delle priorità nelle attività le attività non sono tutte uguali hanno pesi diversi mentre le cose che sono più ostili più difficili che però hanno un impatto più alto sulla nostra azienda noi li andiamo a procrastinare perché è così l'uomo come quando ti hanno insegnato vai in ufficio fai le cose più semplici appena all'inizio entri no è proprio l'incontrario arrivi in ufficio fai le cose più difficili quelle più quelle che vi stanno sul groppone che non vuoi chiamare quello lì perché è un rompicoglioni però ti può risolvere un problema devi fare le priorità quando arrivate in ufficio non tutto pesa nella stessa maniera e concludo ricordatevi sempre la legge di Pareto 80-20 il 20% delle vostre azioni determina l'80% dei risultati avviene io tante volte mi rendo conto che il commercio che non ha che ha possibilità di crescita infinite ma quanto tempo avete in certe occasioni per capire le strategie vedo piccoli negozi che sono lì che leggono ma perché non investite in voi stessi nella vostra azienda è vostra non è di un altro ora quando dico questo e devo concludere questo podcast ricordatevi sempre la lezione e il detto di Cicerone coltivare la mente è necessario come il cibo lo è per il corpo buon sviluppo su voi stessi ciao da Matteo Barberi